Ciao ragazzi, oggi giocheremo a una sfida, infatti attaccheremo la mano alla macchina e chi la staccherà sarà eliminato dalla sfida, invece l'ultimo che riuscirà a resistere con la mano attaccata alla macchina appunto vincerà la macchina ed è bellissima ragazzi, vi immaginate andare a casa con questa macchina? Ok, altri personaggi, uscite! Eccomi qua! Buonasera! Oggi ragazzi siamo vestiti con i personaggi del gioco Jenshin Impact, questo qua è il mio cosplay, guardate che bei capelli! Questo è il mio, questo è il mio, e infine questo è il mio. I dettagli sono ancora più mozzafiato all'interno del gioco. Ok, quindi una volta attaccata la mano non si torna più indietro, pronti? Prontissimi! 3, 2, 1, ok! Mi raccomando non staccatela che il cameraman vedrà tutto! Io direi di fare un bel giro per iniziare a prendere confidenza con questa macchina! Ok! Mi sa che sarà difficile? Linda, tieni! Prendi la pistola, entra in auto e spara a tutti così vinciamo e ce ne andiamo via! Dai, 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 dai! Così la macchina sarà nostra! Lo staccatela la macchina! Lo staccatela la macchina! Lo staccatela la macchina! Ha un'arma, non va bene! Lo staccatela la mano! Ok, senti, se hai voglia di fare queste cose, vieni qua Linda, parliamo chiaramente, vieni! Attenzione! Appadri! Ok, adesso siamo pari! Ok, allora, per rendere ancora più difficile il gioco ci sono queste sfide da fare! Pronti a girare la ruota per vedere la sfida che capiterà? Ok! Chi trova gli anelli nascosti vince la seconda vita! Oddio! Anelli, se possiamo staccare la mano, poi magari abbiamo un'altra vita! Abbiamo un'altra possibilità! Sì, abbiamo un'altra possibilità di vincere la macchina! Ok, ok! Anelli! Dove potrebbero essere? Dove sono? Dove può essere? Dove sono? Dove sono gli anelli? Un essere con... Trovati! No! Li ha trovati! Trovato! Ho vinto! Ho vinto! Puoi staccare la mano una volta adesso! Guardate! Chi li vuole? Io! Li ho venti io! Li ho venti io! Tanto ho vinto io! Tanto ho vinto io! 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 Andiamo a ritirare la ruota! Ciao! Cercate di squalificare qualcuno con le spade! Ok! Io ci sono! Stacca! Stacca! Vi va! Ah! Ah! Ok! Nono! Ah! 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 atheist! Veloce! Ah! Che Nobody! Enfira!! Ah! Ok! Palmetto! di respira è sua! Ah! Niente! Ok! È chiaro. Ah! Chi riesce a vincere la torre Jenga mangia una torta Ragazzi non mangia molto cibo oltre che la torta Quindi l'idea di dividerci in squadre Ok chi vince per la squadra mangia la torta insieme al compagno Ok siamo io e te Ok Io e io Ok perfetto Chi gioca? È uguale Gioco io Ok Tanto possiamo giocare anche insieme e darci una mano L'importante è vincere Attenzione Dobbiamo vincere Attenzione alle mani Vai Oddio c'è tutti i mattoncini sotto Dobbiamo fare la torre Jenga con questi mattoncini Ok ci sono Ok Non staccate le mani Non staccate le mani Ok Io mi cambio Non sta da mia parte Ilaria brava Ok abbiamo preparato la torre Jenga Adesso il primo che la farà cadere perderà E l'altro vincerà la torta insieme alla squadra Ok Vai 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 Non farà cadere Ok Ok Saro stai attenta Ok Ci sono ci sono ci sono Ok vai 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 www Vai 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 2014 Charlotte vai Casca 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 No no Ok Oddio Oddio No Ok Ok dai tomato vai abbiamo vinto allora abbiamo vinto la torta usciamo esci va bene vinceremo la prossima mi raccomando linda la mano c'è già la torta che buona il pistacchio non staccate le mani no no wow la vogliamo mangiare solo con una mano che buona aspetta ti aiuto dammi un piatto come fate con una mano sicuramente perdere esatto non credo proprio guarda che non le stacchino che così buona e la possiamo mangiare solo noi andiamocene via la vorresti vero? andiamo a girare la ruota a divertirci e andiamo a divertirci non staccare la mano oh mio dio vai vieni alza alza scusa scusa linda scusa questa torta è buonissima sto cadendo ok ho provato a farla cadere proprio giusto ok giriamo insieme giocare a jensen impact con una mano ok bene tiro fuori il mio telefono eccolo qua che divertenti noi adesso ci è capitata la sfida di giocare a jensen impact sentite la musica sentite è jensen impact ok bene devo provare a giocare con una mano e intanto ragazzi vi mostro com'è ok ilaria puoi saltare tu per favore vai guarda ok guardate ragazzi il paesaggio è mozzafiato e possiamo veramente giocare con tutti i luoghi andati a esplorare in profondità veramente possiamo fare di tutto con questi luoghi poi ogni volta ci sono sempre nuovi personaggi nuovi eventi nuove aree nuove armi nuovi nemici da dover combattere appunto con la spada guardate c'è anche la nuova versione 2.6 che ha un nuovo personaggio che si chiama kamistato aiato appunto dopo questi altri personaggi ci sono nuovi nemici nuove armi nuovi luoghi nuovo tutto nuovo tutto ci sono anche dei multi game all'interno del gioco quindi ci sono anche delle sfide da poter compiere siete pronti a giocare anche voi a questo gioco perché vi lascio qua il codice qr per poterlo scaricare si può scaricare sul pc telefono playstation dove volete basta che lo scaricate ok ok allora adesso direi di girare la ruota nuovamente vai sì bene pronti 3 2 1 cercare di squalificare qualcuno con le bolle linda il rosa è nostro daccelo allora dai il blu vincendo io il mario 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 verso la mia spalla mi lasci da solo con loro cerca di vincere comunque il mario verso il mario aiuti dal dietro le quinte grazie Vai Linda Stiamo vincendo Stiamo vincendo Non è vero Stiamo vincendo Ma se io tipo li facessi perdere Cioè io adesso posso Tieni Ila Corri corri dai mi fastidio Vediamo se vinciamo noi ragazzi Stiamo vincendo Stiamo vincendo Ilaria non puoi Non è vero Linda smettila Smettila ma cosa stai facendo Ti sei buoni Ila continua forza Ragazzi venite qua Giochiamo un'altra sfida Ok giochiamo Vai Disegnate il vostro personaggio Oh no Non so disegnare Io sono bravissima Tommaso verrai squalificato presto Non credo proprio Ciao Bene cameraman Dacci gli strumenti E le nostre armi Ok Adesso io disegnerò Ilaria Il ricordo Della sua morte Perché ragazzi Qualcuno l'ha uccisa Io disegno lei Perché è la più bella Io invece disegnerò Il mio personaggio Perché naturalmente Sono io Quindi Bene iniziamo Tutto questo con una mano Quindi Non è semplice Ok Allora Facciamo il viso Io sto finendo la faccia Io sto facendo il mantello Ma non hai fatto il disegno A lapis No A lapis Tommaso Mettila No Tommaso Ha perso No No È stata colpa tua Nostra vita Non so se essere qui Sto felice Perché eri nella mia squadra Però così ho più possibilità Di vincere Ciao Tommaso Io te la farò pagare Te la farò pagare Ciao Mi raccomando Ciao Tommaso Ovvio Secondo voi qual è il disegno Più bello Secondo me ha vinto Tommaso Io ero partita molto bene Ora sto facendo un attimo Una cosa un po' astratta Ok Io mi abbandono E vado a fare Un pisolino Ok Così Perfetto Io dormo un pochino Linda Ci vediamo quando mi sveglio Se non avrai perso prima Perché la macchina È già quasi mia Ok Sì sì Vai dai Io continuo a disegnare Poi vediamo che vince Ok 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 Mettila mano un po' più così Ok Linda Togli la mano a Charlotte Così vinci È quello che volevo fare Infatti Hai colto la mano Ha vinto Ha vinto Ho vinto io Perché ti hai colto la mano Ha vinto Sì Linda Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ciao 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 Vai Linda No 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 Ilaia 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 Scaricate il gioco Gianci mi impatto E vi lascio il codice QR Scaricatelo Mi raccomando Grazie Gianci mi impatto Per quanto sfida Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao